E tu come ti chiami, Gioio? Pietro. Ah, e cosa hai fatto oggi di bello? Siamo andati a spasso. A spasso? Ma quanto sei bravo! E dove te ne sei andato? Al parco. Ah sì, allora sei andato al parco. E quindi ti sei divertito. Non parli al bambino, comunque si mirarà solo pochi mesi. Oh, non parli cucciolo! E quando è il tuo compleanno? Non è niente. Hai chiesto a mamma e al papà che torta vuoi? E cosa hai chiesto per il tuo compleanno? Avrei chiesto tanti regali per il tuo compleanno. E sulla torta ci saranno tante candeline. Beh no, diciamo poche, ecco. Non hanno neanche un anno, capito? Hai detto a mamma e al papà che torta ti piace? Ma batte una affanculo! E ti piace la ciottelata? Sì. Che c'è? Ti devo dire una cosa. E l'altro? Martedì c'è il compleanno di Daniel in un festificio sulla Porto Enzo. E la sera abbiamo la cena di carnevale con i genitori della sua classe. Lei ci tiene da morire e noi ci dobbiamo andare. La cena di carnevale. Sì? Mascherati. Mascherati. Mi vuoi bene? Sì, cazzo. Io sa che non lo so. Scusa, mi sono così stanca. Passerà. Passerà. Non lo so. Passerà. 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 Passerà.